benificazione progetto con tecniche digitali normalmente dove vado a fare le mie presentazioni e metto il nome il logo del paese dove sono ospitato oggi permettetemi di mettere ho messo il logo della lombardia proprio per il periodo che stiamo vivendo difficilissimo per cui mi sono sentito di mettere di fare questo non dimenticando che non è un problema solo nostro della lombardia ma è un problema di tutta italia di tutto il mondo per cui se ho messo come inizia ho inizio il logo della lombardia con un forte abbraccio voglio inserire ho inserito il logo di tutti tutte le regioni d'italia perché appunto riusciamo a venire fuori da questa situazione con un grande con un grande abbraccio a tutti bene dopo un po di emozione parto con la presentazione dunque quando arriva un paziente c'è bisogna iniziare a fare una pianificazione anche se arriva in queste condizioni anche con meno elementi dobbiamo cominciare a decidere un piano per poter gestire questo paziente spesso e volentieri da qua si è già deciso di fare una protesi fissa o una protesi removibile non capisco da che basi si possa decidere in questo momento con in che strada andare però purtroppo succede in questa fase chiedo e quasi sempre riesco a ottenere delle foto anche con fatte con un telefono con un cellulare il sorriso le foto intraorali dei modelli preliminari i modelli preliminari che serviranno a me al clinico e per poi arrivare al paziente a fare una pianificazione corretta quindi tutte queste indicazioni che io ho da questi modelli dimensione verticale centrica non sarà probabilmente una relazione sarà una centrica abituale comunque bisogna valutare sul pulsante disfunzionale tutte le varie discussioni su una centrica da scegliere in questi casi però tante informazioni o l'esposizione dei denti da qui comincio dente con dente tolgo il fare delle estrazioni sul modello a fare una previsualizzazione con un montaggio denti in questa fase cerco sempre di non stravolgere il quella che è l'estetica del paziente cerco sempre di migliorarla che è diverso quindi non vado a stravolgere quelle che sono le situazioni cerco magari di correggere dei piani con queste protesi prestrattive che sto andando a fare e sempre anche se sono ancora presenti dei denti faccio una flangia vestibolare quindi faccio praticamente due protesi prestrattive di protesi totale se ci sono degli elementi come questi molari posteriori o anche delle radici cerco sempre di farle tenere perché comunque aiuteranno il paziente in questo percorso difficilissimo che sarà appunto la protesi provvisoria a riuscire a gestire questa situazione in un modo dignitoso e non avere delle cose in bocca che non riesce neanche a gestire ma anche nella seconda fase riuscire a farle stare più ferme e più stabili anche quando vengono posizionati gli impianti se non si fa un carico immediato aiuta ad agevolare la guarigione in quanto non andranno a caricare sugli impianti ma saranno tenute un po più stabili da queste radici o questi denti che possiamo mantenere e guardate quanto è importante avere questi questi modelli vediamo questi questo modello dove è stata tolta una parte di denti che indicazioni mi può dare a me come tecnico soprattutto se devo andare a fare poi delle protesi cioè dobbiamo fare un rimontaggio denti so che quando faccio un montaggio denti il primo dente che dovrò andare a mettere un incisivo centrale e molte volte mi capita di sbagliare a metterlo di avere difficoltà a metterlo qui ho l'indicazione esatta di dove ho il primo dente dove il paziente aveva l'incisivo centrale quindi vado a rifare la stessa cosa in modo un po più semplice vedete così ho perso tutto così ancora di più mi devo reinventare tutto dalla dimensione verticale alla centrica tutto al montaggio denti quindi tutte quelle indicazioni me le porto fino alla fine con il digitale non è che non lo faccio più lo faccio ancora vedete questo è un'impronta intra orale la foto del paziente quindi con dei sistemi digitali riesco a fare la stessa cosa non è che la non la faccio più ho fatto fare le scansioni le foto del paziente con ancora i denti presenti e vado piano piano a rifare il mio montaggio denti in questa fase e sarà un montaggio 2d per poi importare tutto su dei software questo caso exocad e poi gestirla in 3d quindi un montaggio vero e proprio con tutte le caratteristiche di un montaggio che ognuno di noi conosce ci sono varie tecniche ognuno userà la sua e quindi va a fare la stessa cosa e vado a fare la stessa cosa che facevo e che faccio ancora con la tecnica dei modelli in modo analogico quindi vedete vengono posizionati elemento per elemento non abbiamo ancora fatto niente sul paziente il paziente può vedersi e provare questi perché poi qui sono state fatte delle delle stampate di questo di questa progettazione pre visualizzazione che abbiamo fatto il paziente ha potuto indossarle tutto ancora prima di poter cominciare il lavoro di fare le estrazioni quindi si sta cominciando a decidere prima che lavoro possiamo fare su questo paziente o che è meglio fare questo paziente quindi il coinvolgimento del clinico il coinvolgimento del tecnico ma soprattutto coinvolgimento del paziente che in questa fase si può vedere e si può provare quello che stiamo facendo vedete qua vengono fatti il montaggio denti viene fatta sempre comunque la parte rosa perché ripeto parto sempre da questa situazione indipendentemente poi si va se un lavoro di protesi fissa ma questo lo scopriamo dopo lo scopriremo quando i tessuti hanno avuto una fase di riassorbimento vediamo il paziente che ha portato la protesi quindi andremo ad analizzare la fonetica e andremo ad analizzare l'estetica del paziente questo con un po più di calma rispetto a certi tipi di lavori che vengono fatti emessi e ci si trova davvero in difficoltà vediamo cominciamo a vedere qualche caso clinico questo è un lavoro con che ho fatto con dottor ortensi e la paziente è venuta con una sua vecchia protesi è stata quindi fotografata che si possono utilizzare sistemi di fotografia esiste sistemi di scansione facciale sono tutti e due validi oggi ci sono due possibilità di fare questi queste tecnologie con la fotografia ci sono dei piccoli punti di vantaggio che rispettano un pochino di più quello che sono le dimensioni di tutto quello che stiamo andando a fare comunque sono tutte e due entrambi le utilizzo tutte e due con vari clinici quindi cosa facciamo andiamo a fare la foto del paziente con la sua protesi vecchia con i denti residui siamo andati a costruire un ballo in cera in quanto sopra non aveva era una paziente dentura ballo in cera che ha dei punti di repre per seguire poi a fare servivano poi a fare degli accoppiamenti e si comincia a fare una previsualizzazione che il paziente può vedere fatto questo quindi abbiamo preso l'impronte definitiva delle impronte con lo scanner intraorale o dell'alginato è stato fatto il modello in gesso o usiamo un modello in virtuale però entrambi i due processi che abbiamo utilizzato portano a costruire un ballo che andrà fatto un ballo funzionale quindi un ballo in resina con della cera e lì viene presa la verticentrica e viene funzionalizzato in bocca a questo punto fatta la funzione presa e costruito il ballo e fatta la funzionalizzazione viene fatte vengono fatte le foto che serviranno poi al clinico e al tecnico per procedere con con il lavoro questo è uno dei software che utilizzo per fare questa questa usare questa tecnica vengono inserite le foto sono due foto alla fine che vengono fatte al paziente intraorale e del viso e il vallo quindi viene scansito in laboratorio scansito il modello o l'interno del vallo la stessa cosa perché con quello possiamo ottenere il modello virtuale e vedete che ci sono questi punti di repere che ci permetteranno poi di fare gli accoppiamenti con l'immagine che abbiamo preso del cavo orale e del viso col paziente con il vallo quindi i punti di repere ci fanno copiare queste immagini su quello viene fatto il montaggio dente abbiamo visto prima punto montaggio dente viene fatto proprio come se noi andiamo a farlo sul modello dente per dente provato e visto col paziente viene quindi stampato in laboratorio il laboratorio stampo questa protesi che abbiamo previsualizzato che abbiamo visto si può fare con denti bianchi parti rosa o comunque anche è utilizzata come provvisoria o comunque anche monocromatico quindi una stampa ancora più economica e veloce la paziente l'ha provata quindi l'ha indossata e deciso che quello è e sarà il suo lavoro poi possiamo anche comunque portare a fare delle modifiche ecco qua il risultato della stampa quindi la stampa poi viene utilizzata in questo caso per essere mandata a fare la parte diagnostica quindi la combine con questi punti di repere e questi sono i risultati degli accoppiamenti del combine del modello del vallo tutte queste immagini che sono state inserite in in exocad sono la somma di tutti questi passaggi questa che carina anche da vedere non è un giochino è una parte molto importante proprio per la pianificazione qui non si è ancora decisi in questa fase se il lavoro che stiamo andando a fare sarà un lavoro di protesi appunto fissa o removibile quello che mi interessa e mi piacerebbe appunto andare a farvi vedere guardate queste immagini no qui abbiamo vorrei fermarmi in un punto ben preciso ecco qua vedete con queste immagini abbiamo la posizione dei denti che noi abbiamo provato e fatto provare alla paziente qui capito quindi che quello è il risultato che vuole ottenere e la parte della l'esame di diagnostica quindi la parte scheletrica vedete che gap tra la posizione che c'è e dei denti e la parte scheletrica e sappiamo tutti sono ormai delle indicazioni ben precise che ci dicono che oltre 5 mm si va in una direzione piuttosto che un'altra in questo caso quindi abbiamo con il clinico deciso di andare e la paziente di andare verso una protesi overdenture quindi rimovibile proprio perché aveva bisogno di una sostegno vestibolare il dottor Ottensi quindi ha fatto tutta la progettazione per la guidata tramite una mascherina sono stati inseriti gli impianti e qui vedete la fase la seconda fase gli impianti sono stati posizionati la paziente ha continuato a portare la sua protesi provvisoria e siamo arrivati alla guarigione dei tessuti a questo punto impronta introrale e queste sono le impronte che oggi riusciamo tenere con ottimi risultati per riuscire a ottenere e migliorare tutti questi risultati negli anni dottor Ottensi e tanti clinici che utilizzano da un po di tempo gli scani introrali hanno trovato delle soluzioni molto fantasiosi ma funzionanti per arrivare a ottenere un buon risultato anche dove c'era appunto una distanza molto importante tra un impianto e l'altro che erano le parti più difficili per uno scan introrale a rilevare la precisione da una parte all'altra utilizzando queste mascherine che abbiamo già fatto quindi non vengono fatte apposta si può evitare di avere queste piccole imprecisioni che si potevano venire a creare qualche tempo fa questo è quello che arriva il laboratorio quindi modello virtuale modello virtuale noi come in questo caso possiamo procedere di lavorare completamente in modo virtuale cosa che non amo che preferisco essendo un tecnico con qualche capello grigio di avere qualcosa in mano un modello per poter lavorare e rendermi conto meglio di quello che sto andando a costruire quindi stampo i modelli o comunque cosa che faccio sempre faccio fare lo faccio ai miei collaboratori un faccio fare un modello in gesso perché comunque mi dà una garanzia di durata e di precisione differente rispetto a un modello stampato che magari è molto preciso all'inizio ma con il tempo sono lavori che hanno bisogno di un po di tempo possono andare incontro a qualche problema qui vediamo ancora virtualmente io ho la scansione dei modelli la scansione del lavoro definitivo quindi quello che è stato fatto e provato dall'inizio ripeto è stato anche modificato perché si può modificare allungare allargare il dente in questa fase il paziente può fare tutto quello che ci può chiedere tutto quello che desidera fare e qui inizia il vero proprio il progetto il progetto del lavoro quindi progetto protesico guardate quanto importante avere sapere dove sono gli impianti che tipo di uscita avranno gli impianti dove sono posizionati rispetto ai denti la prima cosa che devo andare a fare il laboratorio cercare l'asse di inserzione durante i corsi facciamo questi passaggi e chiedo sempre faccio vedere questa fase normalmente ci si sofferma sull'asse di inserzione guardando il piano di masticazione occlusale posteriore e il piano frontale diventa soprattutto nel superiore invece molto importante andare anche analizzare questa zona non so se vedete la freccia questa zona soprattutto dei superiori capita molto spesso di avere un sottosquadro quindi se abbiamo un sottosquadro in quella zona va valutata anche quella zona lì non solo quindi il piano occlusale ma anche la parte di sottosquadro altrimenti avendo una fra una parte di flange avremo difficoltà a far salire la protesi adesso dobbiamo decidere se fare una protesi resiliente o rigida con gli anni ho cambiato molto quello che facevo prima adesso valuto molto vanno valutate molto il numero degli impianti la posizione il diametro e anche la lunghezza tra resiliente e rigido oggi dopo una lunga e attenta discussione che stiamo facendo perché sono un po di tempo che stiamo lavorando con degli ingegneri io e dottor ottensi siamo arrivati un po la conclusione l'abbiamo portata a rende di quest'anno nelle strutture che andiamo a costruire di fare strutture sempre più resilienti allora se il numero degli impianti e la posizione degli impianti mi permette di fare una struttura resiliente scusatemi frizionante si fa frizionante perché abbiamo un numero un'estensione totale fino a posteriore e pochissimo appoggio mucoso se c'è un grosso appoggio mucoso sempre resilienti queste strutture con questi ingegneri ci hanno fatto vedere ci hanno spiegato molte cose chiaro che non abbiamo operato memoria tutte quelle formule lì però ci ha fatto capire meglio come funziona un esempio banale guardate i grattacieli durante un terremoto in giappone non sono caduti perché hanno avuto una avevano una resilienza si sono mossi si sono spostati per decine di metri ma non sono crollati e sono strutture fisse sono strutture di cemento la posizione degli impianti degli attacchi e della barra guardate quanto è semplice importante usare i sistemi digitali ci permettono di andarli a posizionare in modo veloce perfetto rispetto a cosa alla posizione degli impianti alla posizione dei denti e al tipo di protesi che andiamo a costruire quindi vediamo un altro esempio qua stiamo montando sto montando un attacco in quella zona nella parte superiore è oggettivo e vi si vede che non ci sta perché fuoriesce dalla parte del palato che è stata progettata prima molto spesso si fanno le strutture poi si fa la protesi e vengono fuori quelle protesi con delle bombature o delle bozze che sono molto difficili a portare il paziente anche creano problemi di fonetica quindi dicevo quell'attacco è impossibile metto in quella posizione però immediatamente mi rendo conto che se lo metto nella zona palatale riesco a farlo occupando meno spazio e facendo lavorare meglio la mia protesi vedete questi sono gli attacchi distali che io vado a posizionare sia nella parte distale della barra ma in altri casi come vi ho fatto vedere anche nella parte palatale o linguale e in altri casi anche vestibolarmente dove ho tanto spazio magari ho una terza classe li vado a mettere vestibolarmente alla protesi perché sono quegli attacchi che poi mi serviranno a gestire tutta la parte appoggio mucoso quindi a gestire quella zona di resilienza che devo andare a fare il calcolo del cantilever molto spesso viene fatto solo ed esclusivamente per vedere per costruire le protesi fisse tipo toronto invece va fatto la stessa cosa per gestire anche le protesi removibili in quanto sappiamo dove sono gli ultimi impianti è inutile andare a creare delle zone di cantilever anche corti che servono a poco basta selezionare gli attacchi giusti e gestire tutta quella zona senza avere cantilever ma dando la possibilità alla protesi di avere ritenzione e contestualmente essere resilienti vedete gli attacchi vengono abitati quindi sono semplici da posizionare io in questa fase potrei costruire la protesi scusate la barra farla produrre o produrla e poi dopo fare tutto il resto o si può anche oggi fare tutto con un unico file quindi siamo in questa fase ho costruito tutto il mio progetto di parte ritentiva e qui posso andare a gestire anche l'altra parte salvo la scena e vado avanti quindi barra e contro barra vengono fatte con lo stesso file vedete molto spesso dove c'è un palato profondo e qui può essere un argomento discussione il dottor ottensi mi fa costruire una barra palatale per gestire quella zona dove il paziente non vuole il palato perché è molto importante gestire una stabilità nella zona di stare poi la struttura poi la barra può anche essere tolta però all'inizio me la fa sempre fare tutto quello che sto facendo vedete è guidato all'interno di una scatola che la scatola è il nostro lavoro quindi non andiamo ad alterare quello che è stato il risultato iniziale qui vedete la fase di come viene fatta questa sistematica viene quindi virtualmente fatta la barra vengono posizionati gli attacchi gli attacchi sono posizionati con già le matematiche anche della parte ritentiva quindi avendo le matematiche di quella parte viene fatta anche la parte secondaria la parte secondaria viene fatta e io preferisco far fare con la tecnica laser melting in quanto mi riproduce esattamente quello che io ho modellato virtualmente con i sottosquadri con la parte di ritenzione e la parte interna viene ripresa a macchina e questo consente alla struttura di essere già quasi lucida completamente quindi questa tecnica può essere valida se andiamo a costruire per il mio pensiero è molto utile se andiamo a costruire una protesi resiliente e questo è tutto la struttura viene fresata quindi la barra preferisco farla fresata in quanto mi garantisce una resistenza maggiore anche con spessori minimi per cui la struttura viene fatta fresata da un pieno normalmente rifaccio in titanio in cromo ma si possono fare con qualsiasi tipo di materiale la vado a provare sul modello ma anche sul modello di posizione la sovrastruttura viene invece costruita con la tecnica laser melting come vi ho detto oggi questa tecnica è molto valida in quanto si riesce a ottenere delle strutture anche queste molto resistenti perché le tecniche di laser che ci sono oggi sono molto più performanti e anche le polveri garantiscono una buona resistenza di queste strutture vedete la prova viene fatta anche su un secondo modellino che il modellino che io utilizzo per fare la prova di precisione viene fatta la precisione di adattamento della prot della barra sul sugli analoghi ma è altrettanto importante andare a fare anche il controllo della sovrastruttura sulla barra questo è molto importante perché guardate ci sono quasi sempre questi piccoli piccolissimi precontati che compromettono la buona riuscita del lavoro finale intanto continuo a guardare i numeri grazie sono impressionanti questi numeri mi fanno quasi paura siete tantissimi e vi continuerò a ringraziarvi sempre Carlo eccomi ho un paio di domande al volo che mi avevi detto di passare allora una domanda come calcoli il cantilever allora il cantilever dovrei tornare indietro magari lo faccio vedere dopo perché devo farvi vedere il grafico comunque vi viene calcolato tracciata una linea parliamo di quattro impianti due una linea tra i due impianti anteriori una linea tra i due impianti posteriori si calcola la distanza che c'è tra le due linee e questa si può riportare come cantilever questo è un dato perché c'è poco da in letteratura è uno dei pochi dati che abbiamo infatti quello che ha stupito gli ingegneri quando abbiamo fatto questo questa ricerca quindi compreso anche il cantilever loro si sono stupiti di quanto non avevamo niente da poter lavorare come letteratura è uno dei pochi dati che c'è uno di questo comunque si tende a non andare oltre i 12 millimetri ok claudio grazie ok vuoi continuare ok quindi dicevo vedete questa zona qua sono dei piccoli punti di precontatto dell'istituzione della barra la sto facendo senza attacchi pensate il momento in cui ho anche posizionato gli attacchi cosa può succedere quindi il malfunzionamento di una struttura o il consumo anomalo degli attacchi o delle barre è proprio dovuto a questi piccoli fattori che influenzano questa cosa quindi si vado e vado a controllare a quel punto di lucido tutto rimonto gli attacchi vedete anche la sovrastruttura come lucida guardate la barra palatale che è stata fatta il laser melting come si riesce a lucidare questo proprio perché le nuove macchine grazie al meglio che funzionano molto bene arriviamo quindi alla fase di cementazione tutte le barre e le contro barre che vado a fare in resilienti quindi con appoggio misto le faccio con la cementazione degli attacchi delle parti ritentive degli attacchi perché fate la parte distale quindi la parte comunque di appoggio mucoso che negli anni andrà ribasata andare controllata andranno incontro risorbimenti i tessuti se non andiamo se non abbiamo la possibilità di riposizionare le parti ritentive degli attacchi in modo corretto rischieremo tutte le volte che facciamo la ribasatura di far sì che tutto il sistema cominciano a non funzionare più e a creare dei problemi quindi cemento gli attacchi e a quel punto finisco la protesi quindi con due virgola tre prove abbiamo finito il nostro lavoro passiamo un altro caso partiamo sempre da qui paziente che arriva con delle protesi o comunque con i suoi denti residui si vanno a fare le solite foto prendiamo un po più veloce che lo stesso passaggio di prima andiamo a costruire le nostre dime vedete in laboratorio diventa tutto molto più semplice con una stampante oggi poi la stampante la utilizzo molto anche per fare tantissimi lavori dove il stampo e vado a fondere quindi vado a fare la mia struttura la proviamo sul paziente e qui ci rendiamo conto di tutto quello che stiamo facendo se va nella direzione giusta stessa cosa va a fare la parte diagnostica quindi mascherine e vanno inseriti gli impianti posizionamento degli impianti impronte inter orali modelli stampati e in gesso vediamo queste fasi di progettazione di questo lavoro prima cosa sempre ricerca dell'asse di inserzione piano frontale e piano occlusale più rispettiamo questi piani con la nostra barra o anche comunque con degli attacchi se non facciamo una barra su impianto deve cercare di rispettare sempre di più questa regola in quanto se non c'è questa regola andiamo a costruire una barra con un piano diverso da quello di masticazione che la stessa cosa di quando andiamo fare un montaggio su un piano inclinato quindi tutto lo scarico delle forze andrà a caricare nelle zone più basse del piano inclinato verso la parte più bassa del piano inclinato qui mettendo in trasparenza la nostra scatola nostro montaggio denti andiamo a costruire la barra molto spesso mi fanno le domande quanto dobbiamo stare distanti dai tessuti o lo spessore della barra allora dipende sempre dal materiale se lo per lo spessore della barra ma oggi si riesce a ottenere e fare anche delle strutture con spessori molto sottili di barra l'importante qual è che in quelle zone l'importante è non andare a caricare quelle zone quindi spostare il problema spostare il carico dove abbiamo più spessore e sempre più paralleli agli impianti quindi non andare a caricare e sollecitare le parti più sottili che potrebbero flettere e creare tensioni e problemi le nostre strutture distanza dalla gengiva anche lì è una cosa è un dato che va valutato con con il clinico perché avrà più coscienza di vedere se quella una struttura potrebbe essere atrofica o ipertrofica e quindi decidere se stare più vicini o più lontani tendenzialmente cerco di stare staccato il più possibile e vedete qui le fasi di posizionamento degli impianti che degli attacchi che diventa tutto molto più semplice e gestibile con con queste tecniche digitali torno indietro allora se prima dopo aver ricevuto l'impronta prima di consegnare la barra ho fatto una ho mandato in studio e fatto una prova con delle dime quindi consegno allo studio durante una delle prime prove delle dime per fare una prova di precisione della posizione del degli impianti posso andare avanti col lavoro se non l'ho fatta faccio una prova in alluminio in questo caso quindi la prova faccio fresare in alluminio la progettazione della barra la barra viene quindi provata nel camorale e può essere anche provata con la stampa del montaggio denti così faremo una prova della barra e della masticazione quindi deve tornare tutto in quanto avendo la scansione di tutto posso farvi accoppiare e quindi fare questa prova che sarà importante se vogliamo andare direttamente a finire il lavoro vedete la prova viene fatta sul paziente ci conferma che tutto va bene e quindi possiamo andare avanti con il lavoro qua vedete la produzione dell'alluminio della barra in alluminio durante la prova la barra viene provata se dovesse esserci un problema viene tagliata e riposizionata ma soprattutto anche se va bene viene presa a questo punto un'impresa un'impronta tradizionale impronta tradizionale che cosa serve serve a riprodurre in modo più fedele e adeguato le zone funzionali di mucosa visto che abbiamo un grosso appoggio mucoso è importante andare a prendere tutte quelle zone quindi con questa impronta io ho a questo punto un modello di precisione anche in quelle zone che servono che avranno appunto un appoggio mucoso su quel modello vado a costruire la controbarra quindi se mi chiede il clinico barra palatale altrimenti viene fatto un profilo di metallo di sigillo in metallo o anche un sigillo in resina qui la scelta si discute sempre con il clinico e il paziente ecco la barra con posizionati gli attacchi a questo punto consegna della barra e consegna del lavoro avete visto che con due prove dall'inizio alla fine abbiamo riportato tutto quello che era stato pianificato all'inizio quindi foto iniziali della paziente scansione tutte le prove ecco col dottor Hortensi e con altri clinici sto facendo da qualche tempo anche i controlli con il Titan allora questo non è un mezzo diagnostico comunque è un mezzo che ci sta facendo vedere come vengono caricate le strutture dal paziente le nostre strutture e abbiamo visto con questi dati che il numero dei denti la posizione dei denti e come vengono costruite le strutture cambia fa cambiare molto il tipo di appoggio e di carico da parte del paziente pensate solo le Toronto se arrivano solo fino ai quinti o arrivano ai sesti come elementi lo stesso paziente con la stessa protesi cambia il carico più anteriore e più posteriore quindi anche questi sono dei dati sono delle informazioni che stiamo mettendo da parte per vedere appunto come lavorano e caricano i pazienti con le protesi che andiamo a fare allora boccino d'acqua scusate giuro che non è gratta dall'esperienza e dai bei risultati che abbiamo avuto con le protesi resilienti l'esperienza ci ha portato a provare una sistematica che ci permette di avere una passivazione maggiore sulle protesi fisse la sistematica OT-Bridge che ormai sto facendo da un po' di anni mi ha sorpreso mi ha sorpreso tantissimo in quanto mi ha portato a costruire le strutture con un po' più di tranquillità e poter far avere delle strutture molto più estetiche e molto più funzionali i riscontri che stiamo avendo dai pazienti sono veramente importanti e dunque siamo partiti da una situazione di impianti come avete visto un'impronta con impianti posizionati per vari motivi molto disparalleri da dove parto? parto sempre comunque da qua da un montaggio denti flangia vestibolare si decide se si può andare in direzione di protesi fissa o removibile si può fare perché è stata approvata tolta la flangia una protesi fissa cosa faccio? a questo punto vado a progettare ma prima vado a analizzare il modello questa analisi del modello diventa importantissima perché va fatta subito per capire come poi andremo a gestire questo tipo di protesi vedete che grossi disparallelismi che abbiamo qui passano all'80 gradi fatta la provvisoria vista la posizione dei denti decidiamo quindi di costruire questa struttura con la tecnica otibilizia questo è un lavoro che ha fatto sul Bellus monto al posto dei MUA gli attacchi Equator allora abbiamo provato con i MUA ma la gestione del disparallelismo arrivava quindi fino a 30 35 gradi e non mi permetteva di migliorare questa parte di questo caso così complesso visto che volevamo tenere una soluzione estetica soprattutto nella zona anteriore quindi ho optato per questa soluzione ho scelto di montare gli attacchi Equator gli attacchi Equator sono stati selezionati in base al tragitto trasmucoso ordinati e sono arrivati con la tipologia di impianto con cui sono stati montati gli impianti ho fatto il progetto a questo punto vado a fare la scansione del lavoro che ho fatto con il montaggio dinti vado a fare la riduzione del lavoro nella fase di riduzione vedete come sono disparalleli gli impianti e soprattutto nella zona anteriore si voleva evitare di avere questi fastidiosi fori di viti passanti faccio fare dal centro di produzione in questo caso con la tecnica laser melting la mia struttura quindi la struttura è laser melting ripresa a macchina e vedete a macchina le parti di connessione nelle zone interne quelle di connessione vengono inseriti i Seeger qui vediamo uno spaccato di come funziona la sistematica i Seeger vengono posizionati all'interno della modellazione dell'interno della della barra nell'inserzione il Seeger si va ad aprire e a chiudere nel sottosquadro andando a bloccare la mia struttura attenzione è molto importante questa zona questo Seeger non va non serve a far salire le strutture che non sono precise le strutture devono essere assolutamente precise perché l'appoggio che devono avere barra e attacco deve essere preciso quindi è una struttura che alla fine risulta rigida metallo con metallo vedete gli attacchi si inseriscono e si bloccano queste sono le due strutture e i fori anteriori non li abbiamo messi abbiamo solo i due fori posteriori vedete la prova sul modello e la prova sul modellino e la prova sul paziente deve essere importantissima la precisione il Seeger non serve a tollerare delle imprecisioni serve a trattenere il nostro lavoro altro video vedete un po' meglio come funziona il tutto quindi vengono inseriti gli attacchi a posto dei MUA abbiamo questo grosso disparallelismo ecco la sistematica sfrutta quello che è il problema per tutte le altre sistematiche quindi il disparallelismo nella prima fase cioè quando è ancora il laboratorio viene posizionato all'interno della parafina che serve solo per agevolare l'inserzione dei Seeger quindi vengono posizionati seguendo l'apertura deve seguire la zona di disparallelismo dei nostri attacchi con questo adattatore vengono spinti bene all'interno e viene quindi posizionato il lavoro avete visto che è stato inserito prima nella parte anteriore e poi ruotando sale la parte posteriore le due viti che io sono andato a posizionare non servono a trattenere il lavoro quindi non sono due viti che tengono sul lavoro le due viti servono a impedire al lavoro di ruotare e quindi di potersi togliere che sarà il movimento che dovremmo fare che dovrò fare il clinico per toglierlo e per metterlo gli impianti lavorano tutti e quattro assieme quindi sono quattro impianti lavorano tutti e quattro a questo punto si va a finalizzare il lavoro viene in questo caso fatto un composito questo è il motivo per cui ho deciso di fare la struttura in laser melting perché sopra alle mie strutture quasi sempre preciò questi compositi ibridi che sono delle ceramiche delle ceramiche ibridi vado a fare la mia stratificazione o stampaggio degli elementi e questo è il lavoro finito come vedete la posizione del lavoro estetica e tutto è stata rispettata ma l'abbiamo visto all'inizio non l'abbiamo visto alla fine passiamo a un altro caso questo è un lavoro un po' più complicato e purtroppo ho dovuto coprire parecchio il viso perché essendo un webinar e andrà poi sul sito della Reina è meglio evitare anche se abbiamo le autorizzazioni è sempre meglio evitare di vedere il viso completo questa non è la foto finale la foto questa non è la foto iniziale ma questa è la foto iniziale la paziente aveva una grossa problematica questo è un lavoro che ho fatto con le molinette di Torino con il dottor Barbero e quindi partiamo da questa situazione è stata la ragazza ha avuto grossi problemi ha fatto dei grossi interventi di chirurgia di ortodonzia questa è la base di partenza di cui sono dovuti intervenire una grossa equip appunto dell'ospedale Molinette di Torino e hanno fatto dei grandissimi innesti per poter sia facciali che orali per poter poi gestire questa situazione alla fine quello che mi sono trovato è questa situazione vedete quanti che innesti sono stati fatti sono stati mantenuti quei due denti posteriori e tutti quelli inferiori che ancora devono essere protesizzati e vedete gli impianti come sono stati messi sei impianti sono stati messi in quella posizione proprio per poi lo vedremo alla fine con la lastra perché sono stati fatti dei grossi innesti abbiamo ancora delle placche di sintesi e delle viti quindi la posizione è stata dettata anche da questa situazione sono state fatte quindi delle protesi provvisorie e alla fine anche qui abbiamo deciso che si poteva fare questo tipo di protesi l'ottibrige appunto essendo una paziente giovane con grosse esigenze estetiche abbiamo deciso di fare questo protesi questi sono i modelli sono stati posizionati gli attacchi Equator abbiamo il progetto e dalla scansione e dalla progettazione che sono andato a fare con ErsoCAD del lavoro vedete malgrado avessi tentato di fare un foro inclinato per correggere i denti anteriori vedete dove fuoriescono le viti anteriori sono tutte molto vestibolari mi condizionavano anche la linea mediana quindi anche qua ho deciso di fare questo tipo di tecnica quindi ho fatto la modellazione in questo caso virtuale che si può fare anche in cera non ho fatto fare le strutture in laser melting ma in questo caso con la tecnica del fresaggio in quanto il lavoro e la giovane età della paziente mi ha portato a decidere di fare delle strutture in ceramica vedete le strutture come sono state fresate vengono inseriti i sigher vedete anche qui rispettando l'apertura verso il disparallelismo degli impianti la prova sulla paziente qui c'è stata una fase prima dove sono stati condizionati i tessuti perché avevamo le due parabole anteriori molto differenti una con l'altra e questa sistematica è molto pratica è molto utile anche proprio nel provvisorio andare a correggere perché non abbiamo cementazioni sono semplici da togliere da mettere e quindi correggere delle parti di tessuti con questa tecnica con la provvisoria risulta vincente bene fatta quindi ho fatto la ceramizzazione guardate sul modello come si va a bloccare quindi va a bloccarsi completamente proprio con questi seeger che vanno a bloccarsi al di sotto del sottosquadro degli attacchi e a quel punto vado ad avvitare le viti che ho deciso di mettere vedete la prova sul modello prova estetica nel cavorale prova estetica con il paziente quindi il sorriso della paziente ma guardate la lastra guardate la precisione di queste strutture guardate se tutto è funzionato bene dalla progettazione alla finalizzazione il di seeger ci permettono di avere una passivazione tra gli impianti pensate in queste condizioni con tutte queste placche con tutti questi innesti come sono posizionati questi impianti se non avessi una massima passivazione e precisione della struttura cioè andrei a compromettere veramente la durata di questo lavoro e sotto sono stati appena posizionati gli impianti prima che succedesse tutto questo disastro e stiamo attendendo che passi tutto per iniziare poi a finalizzare anche la paziente inferiormente e questo è il risultato estetico vedete come sono stati rispettati tutti i criteri estetici di questa paziente malgrado non ancora ha fatto il parte sotto quindi sono soluzioni veramente fantastiche anche perché a quel punto ho deciso e ho potuto rispettare la linea mediana e non ho tutti quei fuori anteriori che mi avrebbero creato e avrebbero creato la paziente una vita abbastanza accondizionata ultimo caso possiamo andare a fare anche i carichi immediati quindi in questo caso con il dottor Ciabattoni è stato questo è un video dell'ultimo live che abbiamo fatto giusto un mese fa prima che succedesse questo disastro con il dottor Ciabattoni diretta col paziente ecco vedete la parte di progettazione di posizionamento implantare che ha fatto il dottor Ciabattoni la scelta e la posizione degli impianti tutto guidato pensato con la provvisoria che è stata fatta prima quindi mascherina e dima chirurgica con la dima chirurgica quindi abbiamo costruito il modello in gesso di laboratorio in quanto la dima riproduce perfettamente la parte palatale del nostro lavoro il montaggio in articolatore la protesi provvisoria la scelta e la selezione degli attacchi equator i tubi in titanio che poi saranno cementati qui viene costruita la barra in questo caso è stata fatta una fusione perché sarà fatta un giorno in laboratorio vedete la barra viene opacizzata e la protesi a carico immediato pronta qui vediamo senza e con i tubi tubi in titanio le fasi di cementazione dei tubi con le viti lunghe l'inserimento dei sigher protesi con i sigher posizionati controllo di occlusione e tutto viene consegnato allo studio qua due fasi veloci della chirurgia che ha fatto il dottor ciabattoni con la sua equip posizionamento della dima è stato fatto l'indice chirurgico in modo da posizionare bene la dima che poi è stata bloccata sia vestibolarmente che palatalmente posizionamento quindi degli impianti che il dottor ciabattoni ha scelto viene tolta quindi la dima posizionamento degli impianti gli attacchi che erano stati selezionati sono stati sterilizzati busta per busta con il numero di corrispondenza dei vari impianti in quanto hanno delle altezze diverse di tragitto trasmucoso che sono state selezionate sul modello riprodotto all'inizio posizionamento del lavoro ecco anche da parte del clinico poter inserire la protesi e gestire le viti con più calma rispetto al posizionarle con una protesi instabile è vincente in questo caso si è deciso di abitare tutte e sei le viti protesi posizionata purtroppo sotto aveva una vecchia su a Toronto guardate la lastra è imbarazzante la precisione di come tutto sia stato rispettato correttamente e tutto si sia poi inserito perfettamente quindi come vedete in questo caso la protesi è già stata consegnata con i tubi cementati ma si può anche e in altri casi lo faccio consegnare con i tubi ancora da cementare viene fatta la chirurgia e vengono cementati in seconda fase per essere più sicuri che tutto corrisponda con il dottor Ciabattoni faccio quasi sempre le cementazioni in laboratorio e devo dire che con la sua chirurgia fantastica riesce sempre a ottenere i risultati di quelli che avete visto io adesso faccio vedere questo video poi resto in attesa delle tutte le domande vi comunque anticipo ancora i miei ringraziamenti perché malgrado non sia facile parlare davanti a un computer vi ho sentito presenti e in questo periodo sentirvi presenti è tanta roba vedete tutti i lavori che vado a fare da quelli più semplici che poi non esiste il lavoro semplice a quello più complicato un po' più lungo da fare dove ho fatto una progettazione più lunga sempre vado a fare un progetto protesico iniziale poi tutto il resto fa sì che ci si possa anche divertire e ci riesca a ottenere dei grandi risultati a un po' più lungo Grazie a tutti.